Vince il primo premio dell'edizione 2023 di musica da bere Io non lo so quindi Stain Complimenti agli Stain Allora, anche gli Stain saranno con noi Venerdì prossimo, 6 ottobre In apertura a Lucio Corsi E verranno premiati, ovviamente Complimenti ragazzi, complimenti Anche gli Stain verranno premiati settimana prossima Quindi mi raccomando, vi vogliamo vedere tutti qua Signore, dillo tu però che è importante Consegniamo il primo premio di musica da bere 2023 Agli Stain Grazie, grazie, grazie mille Grazie a tutta l'organizzazione di musica da bere Grazie a tutti Ricordiamo che i vincitori di musica da bere Dicono un premio in denaro di 3.000 euro E tre date live nei club e nei festival della rete di musica da bere E un video live unplugged Regalato dagli amici di itinero Un applauso Aspetta, e se ti pesa te li tengo io Raga, vendo premio Non si può dire niente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti